Sono giorni di apprezzione nel comune cilentano di Laurino, l'unico ancora in lockdown in Campania, 1330 abitanti che da settimane lottano contro una nuova ondata di contagi da Covid-19, ma far crescere i timori e il sospetto dell'arrivo della temuta variante Delta. Il cluster individuato in chiesa sarebbe partito infatti da alcune suore provenienti da paesi asiatici, 40 le persone ancora positive e 6 quelle ricoverate, domani screening di massa sulla popolazione. Come chiarisce il sindaco dopo questa impennata di casi? Il fenomeno che ci ha visto i protagonisti negli ultimi giorni è un fenomeno anomalo, perché Laurino è stato un paese che fino a pochissimo tempo fa era quasi Covid-free. Una diffusione così rapida e così massiva non ce l'aspettavamo. In collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e con l'Istituto Zooprofilattico di Portici abbiamo organizzato per domani uno screening di massa di tamponi monoclonali, nasofarinceo, che faremo a tutta la popolazione, anche per verificare se siamo in presenza di una variante. I timori di una possibile variante indiana nel comune vengono anche dall'alto numero di residenti vaccinati. Noi abbiamo una popolazione che ha fatto almeno una dose di vaccino intorno al 70%, qualcosa in più e non in meno. E questo è un altro elemento che ci fa preoccupare nel senso che probabilmente sia in presenza di una variante perché sta colpendo anche delle persone vaccinate.